ciao a tutti dunque oggi ci sarà la forchetta su stimit quindi vedremo cosa succede solito sempre molto estrema come reazione quindi o le quotazioni salgono fino alle stelle oppure c'è la distruzione più totale ma una volta non è successo neanche niente di diciamo visibile quindi sono un po così c'è la gente che inizia a disegnare forchette e gli artisti si stanno prodigando perché questa forchetta arriverà alle 15 alle 15 ora penso di greenwich ma alle 17 dell'ora italiana quindi per me che sono in germania la stessa ora alle 17 vedremo cosa succederà sono un po preoccupata però ho anche tanta speranza quindi vedremo io incrocio le dita per stimit e un bacio a tutti ciao ciao alla prossima